stavo per andare a letto poi ho detto voglio fare una domanda e darvi modo di notte domattina di rispondere siamo già alle mercoledì 5 luglio ore mezzanotte 27 e solo io penso di essere l'unico in diretta attualmente in italia l'unico pazzo che va in diretta quest'ora non mi aspetto collegati assolutamente però mi aspetto che quando vedrete questa diretta che sia domattina che sia domani l'altro che sia giovedì venerdì sabato non mi interessa quando vedrete questa diretta che esprimiate un vostro pensiero ci sono due possibilità rimanere in questa europa e con il cuore con il cuore ditte no non usciamo dall'europa oppure sì voglio uscire dall'europa quindi fuori dall'europa col pollicione io sono curioso sono curioso nonostante l'orario e nonostante l'algoritmo che penso ha già mandato la notifica incredibile forse perché non c'è nessuno collegato e io sinceramente sono stanco sono stanco di quest'europa sono stanco delle della gente come la von der line che fanno accordi su accordi per acquistare quello che gli pare a nostra insaputa sono stanco di avete capito cosa sono stanco degli obblighi delle macchine elettriche bisogna passare tutto all'elettrico della casa green sono stanco delle delle tasse dell'europa di inviare delle armi di portare avanti una guerra di sottostare sempre di più a dei diktat da paesi stranieri non abbiamo più la nostra autonomia non siamo più italiani di fatto manco la nostra bandiera possiamo rispettare la nostra cultura la nostra religione ci vogliono imporre il cibo ci vogliono togliere quelli che sono i nostri piaceri ci toglieranno la croce ci toglieranno ci proglieranno di andare di andare a pregare ci toglieranno di di fare tutto provano a cancellare la parola mamma e papà cioè fanno delle cose incredibili quindi io vi vi faccio questa domanda questa domanda molto semplice fuori dall'europa sì fuori dall'europa no con il pollicione mi dite sì con il cuore ditte no voglio rimanere in europa è lecito che uno dica voglio rimanere in europa però vorrei ricordarvi che nessuno ci ha chiesto se volevamo o meno entrare in europa c'è stata imposta un giorno gente come prodi si alzò dicendo dobbiamo andare in europa lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come un giorno in più vi ricordate no quindi se ci fosse la possibilità di fare un referendum cosa penso non possibile non è così semplice però ci fosse la possibilità di fare un referendum secondo voi la gente gli italiani cosa direbbero questa è una domanda cosa direbbero secondo voi perché non vogliono farci votare in questa cosa forse perché la risposta sarebbe che il 90 per cento degli italiani deciderebbero di uscire dall'europa pur sapendo che sarebbe una cosa difficilissima non abbiamo più la moneta sarebbe un casino incredibile ma adesso secondo loro la situazione è bella secondo voi la situazione è bella c'è gente che non arriva a fine mese ragazzi c'è la spesa raddoppiata la benzina è improponibile quello che ci vogliono obbligare a fare per le case è insostenibile abbiamo degli stipendi da fame pensioni minime penose dove sono gli italiani dov'è la gente quindi un pongo questa domanda nonostante l'orario c'è poco ci sono pochi collega collegati ma è ovvio se la gente ha letto la gente i miei amici le mie amiche sono letto quindi io sono curioso voglio vedere una vostra una vostra risposta vi chiederei anche di condividere a tutti i vostri amici questa volta veramente sul serviti darei proprio un piacere per tutti noi di condividere questa questo piccolo non è un sondaggio questo parere questo parere tra amici no e a tutti a tutti quelli che conoscete tutte tutte le vostre amiche tutti i vostri amici perché sono veramente curioso di capire cosa 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 dice la gente è chiaro che mille voti non contano 5.000 non conta ma se riuscissimo a far tanti voti potremmo far capire che che forse veramente la gente stanche vuole uscire d'europa che forse italexit non era poi un progetto così sbagliato magari non è stato portato avanti in modo fortunato perché i media i mass media hanno hanno totalmente boicottato l'idea di italexit l'hanno completamente oscurata però tutti quelli che conosco mi dicono che palle stare in europa insostenibile non ce la facciamo più tutti tutti dal primo all'ultimo non ho mai trovato uno che mi che mi abbia detto io no bisogna rimanere in europa si sta meglio che qualcuno dica che si sta meglio adesso che prima quando eravamo autonomi quando avevamo la nostra moneta sovrana vabbè ciao a tutti vi do la buonanotte buonanotte a tutti vi chiederai di condividere e votare sono curioso di vedere i vostri voti con il pollicione si fuori dall'europa con il cuore no rimaniamo in europa io do la possibilità due scelte due scelte una via di mezza non c'è o dentro fuori a ciao a tutti buonanotte buonanotte votate e buon risveglio per quelli che vedranno il video domattina ciao